Al maxiprocesso rinascita Scott, l'avvio delle escursioni del collaboratorio di giustizia che il giugno del 2005 si autoaccusò, senza che ciò avesse seguito, della strage di Pizzinni, costata la vita ai fratelli Pesce. L'audizione di Angelo Servello, originario di Ionadi, ma legati nel corso della sua militanza alla criminalità organizzata, in particolare al clan Fiarè-Razionale di San Giorgio di Pona e al clan Accorinti di Zungri, viene anticipata da un acceso confronto tra il PM Andrea Bruzzelli e l'avvocato Francesco Sabatino, sulla norma che deve disciplinare l'esame del teste, imputato in procedimento connesso o testimone assistito. Armi erano narcotrafficanti, reo confesso, sin dal giugno del 2005, di una strage che non è mai stata contestata né a lui né al presunto mandante né al suo presunto complice nell'esecuzione materiale. L'ecidio di Pizzinni, che il 24 ottobre del 1982 costò la vita ai fratelli Bartolo e Antonio Pesce, di 14 e 10 anni. Condannato in via definitiva, prima che scattasse la maxi operazione rinascita Scott, deve scontare 7 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico, viene sentito come testimone assistito. Volevano fare del male a me e alla mia famiglia, per questo ho deciso di collaborare, esortisce. In particolare avevo timore di Giuseppe Accorinti di Zungri e Leone Soriano di Filandri. Anche se avvero razionale, mi disse che volevano uccidermi e ancora razionale lo conosco dagli anni 80. A lui fu ammazzato un cognato, Giuseppe Gasparro, a me è stato ucciso il fratello Domenico. Entrambi per questo volevano uccidere Francesco Fortuna, detto Pomodoro, che ritenevano responsabili dei nostri lutti. Il PM Bruzzelli incalza, mentre le difese lamentano come l'esame dell'accusa faccia riferimento a verbali non firmati, ma solo su file di Word, peraltro aperti ed emandabili. Insomma, sarebbe possibile porre domande, ma non procedere a contestazioni non essendoci verbali firmati. Conciò le difese chiedono l'interruzione dell'esame. Il collegio si ritira e l'esame di cervello viene aggiornato, in attesa di recuperare i verbali originari.